Dennis, Alibagovic, come è andata la partita? Abbastanza bene oggi, da un punto di squadra, molto meglio di ieri perché hanno giocato molto meglio insieme e si poteva vedere anche da risultato, perché ieri è finita tipo 40-30 e quindi non era tanto altro. Fai più canestre tu, dici? Sì, abbastanza. Abbastanza? Come tuo fratello, come è andata? Sì, sì, anche lui è molto meglio di ieri. Vuole venire a stracere le scape? Molto meglio di ieri, si è fatto più vedere e è andato... Meglio? Sì, è andato meglio, in generale. Salutalo che è lì.